A chi dice che in questo momento il tema è la contrattazione di un mio eventuale ingresso nella cabina di regia o di visibilità da parte di Italia Viva, io voglio dire soltanto che queste sono argomentazioni da miserabili, perché il tema che noi stiamo ponendo è proprio il tema del non privatizzare le istituzioni. Non si può in un momento pensare di fare la fondazione privata per i servizi segreti, in un altro momento dire che i ministri sono i migliori del mondo e poi sostituire le funzioni politiche e amministrative. Di fronte alla proposta che ha presentato il Presidente Conte, ho detto dal primo momento l'altro sabato quando incominciò a delineare questa idea, dissi ho bisogno di un documento sul quale voglio riflettere e lavorare anche con la mia formazione politica, perché è facile fare i capi delegazione e poi non rispondere del ruolo dei propri gruppi parlamentari. Non ho avuto nessun documento, è arrivato ieri notte alle due e ieri ho detto in Consiglio dei Ministri quello che vado dicendo da giorni, che non si può pensare di sostituire rispetto a una dotazione così importante, perché fino adesso noi abbiamo agito dando sussidi e facendo interventi di ristoro. Adesso bisogna progettare e costruire il futuro. 209 miliardi non possono essere affidati a un gruppo di amici selezionati su base amicale. Allora, su questo non c'è dubbio. 209 miliardi devono essere utilizzati e di quell'uso delle risorse ne deve rispondere la politica insieme alla pubblica amministrazione. Grazie. Grazie.